Secondo giorno di vaccinazione all'Aquila per gli ultraottantenni. Ieri pomeriggio al centro vaccinazione i bambini sono stati vaccinati i primi 30 anziani provenienti da Montereale e ultra novantenni. La prima è stata Italia Luzzi del 26, dice Saproba. Il principio è proprio questo, vaccinare dai più anziani ai più giovani e il call center della ASL è deputato a fare le chiamate. Il primo piano viene usato per queste vaccinazioni con un percorso che non interferisce con le attività ospedaliere, come avviene del resto per le vaccinazioni ai bambini. Nel secondo piano proseguono invece le somministrazioni alle forze dell'ordine che stanno andando avanti speditamente e agli ultimissimi sanitari rimasti. I prossimi ad essere contattati per il consenso saranno i militari delle forze armate, del nono reggimento alpini in particolare da quel che si sa, che dovrebbero a breve ricevere la vaccinazione. I 10.000 ultraottantenni censiti sono quelli che hanno manifestato il proprio consenso al vaccino sulla piattaforma, ma probabilmente molti non sono stati in grado di prenotarsi autonomamente. Così si ricorrerà all'aiuto dei medici di famiglia, che hanno già le liste di tutti i pazienti. Il vaccino per loro è il Pfizer. Stanno arrivando altre 2.700 dosi, che saranno incrementate anche con il vaccino Moderna. Oltre all'ospedale, a Via Ficara o Muspa accoglierà un centro vaccinale vero e proprio con otto linee di somministrazione, che dovrebbe essere pronto a breve dopo qualche lavoro di adeguamento, ma si stanno valutando anche altri spazi, se fosse necessario. A San Gregorio, in un ambulatorio medico, nell'ex tribunale del doposismo a Bazzano, il Comune ipotizza anche l'uso di alcune palestre in città. Insomma, un discorso work in progress, che dipenderà molto dalle dosi che arriveranno, perché è vero che la ASL vuole vaccinare il più possibile, ma questo discorso si potrà fare in relazione ai vaccini che si avranno a disposizione. Come obiettivo, la ASL si è postata, prima e seconda dose, di terminare intanto la vaccinazione per gli ultraottantenni entro fine aprile. Ad oggi sono quasi 13.000, tra prima e richiamo, le dosi somministrate nella ASL 1.